Allora, buongiorno. Vediamo in questa registrazione la soluzione del secondo esercizio del secondo laboratorio dei sistemi informativi aziendali. Non rilego il testo, ma vi evidenzio quelle che sono le principali caratteristiche che possiamo ricondurre alle classi, quindi i concetti principali che diventeranno delle classi. Allora, ovviamente abbiamo lo studente che deve fare antecocinio, quindi deve innanzitutto scegliere una proposta, deve fare una scelta di un progetto formativo, quindi il progetto formativo è di nuovo un altro concetto importante e l'azienda convenzionata è un terzo concetto importante. Quindi abbiamo innanzitutto lo studente, il progetto formativo e l'azienda. Oltre a questi abbiamo, scorrendo il nostro testo, il sistema staging job che in realtà può essere interpretato come sistema informativo stesso, se non come l'ufficio che il sistema informativo supporta, e poi ovviamente il tirocinio. Il tirocinio tendenzialmente è un qualcosa da considerare separato rispetto al progetto formativo, perché ovviamente posso avere più richieste di più studenti per lo stesso progetto formativo, ma ragionevolmente poi avrò l'attivazione di, diciamo, un tirocinio, o più tirocini dello stesso progetto formativo, se è possibile avere più posizioni. Quindi il tirocinio è un elemento di nuovo separato. Quindi abbiamo il tirocinio e, se andiamo a vedere il testo, abbiamo anche il tutor accademico, che è un docente dell'Ateneo. Quindi vado ad aggiungere anche il docente. È preferibile, in un caso come questo, utilizzare il termine docente come nome della classe, piuttosto che tutore, perché il docente è l'entità, il concetto che abbiamo coinvolto, e diventa tutore nel momento in cui il docente è legato a un particolare tirocinio, ma di per sé è un tirocinio. Come pure l'azienda, l'ho detto, azienda in generale, non azienda proponente, perché diventa un'azienda proponente convenzionata nel momento in cui ci dà un progetto formativo, o propone un progetto formativo. Oltre al tutore accademico abbiamo anche il tutore aziendale. Anche in questo caso diciamo che il tutore aziendale non è un ruolo o un lavoro specifico, ma possiamo immaginare che il tutore aziendale sia un impiegato o un dipendente di un'azienda. Abbiamo la proposta, abbiamo delle dati inizie e delle dati fine, che ovviamente sono informazioni legate al tirocinio, che quindi diventeranno ragionevolmente degli attributi, e poi abbiamo il fatto che ci sia un inizio di un tirocinio e poi c'è il foglio presenze. Ecco, a questo punto il foglio presenze può essere realizzato in due modi diversi. Se leggiamo questa frase alla fine del tirocinio, lo studente deve consegnare all'ufficio stage and job il foglio presenze, possiamo immaginare che si tratti di un foglio cartaceo che quindi viene consegnato. Che traccia lascerà all'interno del sistema informativo? Probabilmente avremo una data che ci dice quando è stato consegnato, eventualmente un flag che dice se è stato consegnato. e questa è una possibile interpretazione. Un'altra possibile interpretazione è che il foglio presenze sia elettronico e quindi debba essere gestito dal nostro sistema informativo, per cui dovremo andare a mettere all'interno del nostro modello concettuale i dati che ci permettono di tenere traccia di quello che è il foglio presenze, quindi ragionevolmente le righe di quello che è un foglio presenze per ogni riga avremo una data, un'ora di inizio, un'ora di fine che per l'appunto registrano la presenza del tirocinante presso l'azienda in cui svolge il tirocinio. Poi abbiamo il tutore aziendale e lo studente che devono compilare un questionario di valutazione. Il questionario di valutazione, di nuovo, possiamo immaginare che sia un qualcosa all'interno del sistema e quindi dobbiamo andare a definire i concetti relativi, oppure sia un qualcosa all'esterno del sistema, per cui l'unica traccia che lascia è se il questionario è stato compilato oppure no. Iniziamo con un approccio minimale che prevede di avere sia il foglio presenze cartaceo che un questionario esterno e quindi semplicemente andiamo a inserire il fatto che venga lasciata traccia. A questo punto torniamo al nostro diagramma delle classi e andiamo a vedere quali sono le associazioni che esistono tra queste classi. Allora, abbiamo l'azienda che propone un progetto formativo. Per l'azienda ovviamente avremo una leggibilità che va in questa direzione. Un progetto formativo è proposto da un'unica azienda e un'unica azienda può proporre zero o più progetti formativi. Quindi lo studente, come leggiamo nel testo, sceglie una proposta di progetto formativo. Quindi lo studente sceglie sceglie la direzione, è ovviamente in questa direzione, la cardinalità e la molteplicità d'inizio è zero molti, nel senso che un progetto formativo può essere scelto da tanti studenti, viceversa uno studente può scegliere... Qui possiamo andare a valutare i vari casi. Ragionevolmente uno studente può scegliere zero. Il massimo potrebbe essere uno, se uno studente può scegliere un solo progetto formativo, oppure molti, se vogliamo andare a tenere traccia del fatto che uno studente abbia scelto più progetti formativi. Però è un qualcosa che dipende un po' dai dettagli del progetto che stiamo gestendo. E quindi in un caso reale noi andremo a chiedere a chi ci chiede di realizzare questo sistema quale sia il caso specifico. Possiamo anche chiedere se dobbiamo andare a tenere traccia di tutte le richieste precedenti. Per cui immaginiamo che possa essere uno zero molti, quindi uno studente può fare tante richieste di progetto formativo e una di queste ragionevolmente verrà poi accettata. Alla fine abbiamo il tirocinio che è riferito a un progetto formativo. Riferito a un progetto formativo. Altra direzione. Ovviamente un progetto formativo può dare origine a zero oppure un tirocinio. Scusate, il contrario. Sì, può dare origine a zero o un tirocinio. Viceversa, un tirocinio sarà sicuramente legato a un progetto formativo. A mettere di qua le molteplicità così sono più leggibili. A questo punto, il docente che cosa fa? Il docente tutore di un certo progetto, scusate, di un certo tirocinio. Ovviamente un tirocinio avrà esattamente un docente e un docente potrà essere tutore di zero o più tirocini. Un dipendente, a sua volta, anche egli è tutore di un tirocinio. può essere letto in questa direzione. Un tirocinio avrà esattamente un tutore aziendale e uno stesso dipendente può essere tutore di zero o più tirocini. Ovviamente possiamo anche avere l'associazione che il dipendente lavora presso l'azienda per cui il tutorial di un certo tirocinio dovrà essere un dipendente dell'azienda che ha proposto il progetto formativo da cui è stato originato il tirocinio. Sono tutti dettagli che noi possiamo aggiungere ma che non sono esplicitamente richiesti dal testo. A questo punto proviamo a considerare quelli che sono gli attributi che devono essere definiti per le nostre classi. Se andiamo a scorrere il testo vediamo che non ci sono particolari attributi per gli studenti, i docenti, i tutori aziendali. Quindi quando siamo in situazioni come queste è ragionevole andare a mettere gli attributi che ci sembrano base per questo tipo di concetti di classi. Quindi in caso dello studente possiamo andare a mettere quella che è la matricola che è un intero nome e cognome che anche esso è una stringa per quanto riguarda il progetto formativo di nuovo non ci sono informazioni possiamo aggiungere un titolo e una descrizione che sono ragionevoli come elementi per poter andare a prendere una decisione quindi selezionare il progetto formativo l'azienda di nuovo non abbiamo attributi quindi può essere semplicemente il nome dipendente anche lui non ha particolari informazioni però diciamo che nome e cognome potrebbero essere quelli che mettiamo ragionevolmente idem per il docente quindi abbiamo probabilmente una matricola potrebbe essere una stringa o un intero a seconda di come li vogliamo codificare un nome e un cognome anche loro stringhe per il resto che cosa abbiamo allora abbiamo la necessità per il tirocinio di andare a concordare quello che è innanzitutto una conferma da parte di stage and job che sia corretta e questo sostanzialmente permette di andare ad attivare il tirocinio il tutore accademico deve controfirmare la richiesta e la richiesta deve essere controfirmata anche dal tutore aziendale quindi queste due informazioni devono essere riportate in qualche modo dentro il tirocinio allora nel caso minimo io posso andare a mettere un firma tutore accademico e di tipo booleano oppure posso avere una firma tutore aziendale anche questo booleano e possibilmente anche una data firma aziendale aziendale date in questo modo ho sostanzialmente aggiunto alcune informazioni che mi permettono di tenere traccia all'interno del sistema informativo di quello che è avvenuto per il tirocinio ok nel caso minimo almeno un booleano che mi dica se l'ho fatto nella migliore dell'ipotesi è ragionevole andare ad aggiungere ulteriori informazioni che sono il fatto che sia stato firmato e quando è stata fatta la firma quindi si tratta sostanzialmente di riuscire a rappresentare all'interno del sistema informativo quelle che sono le tracce degli eventi che avvengono al suo esterno per cui la firma piuttosto che la la consiglia del foglio presenze eccetera sono tutte informazioni che abbiamo detto sono cartacee però devono lasciare traccia all'interno del nostro sistema informativo e per lasciare traccia vuol dire che devo andare a mettere quantomeno un valore booleano che dice se è stato fatto nella migliore dell'ipotesi oltre al valore booleano anche una data in modo da avere una traccia più dettagliata del fatto che non solo sia avvenuto un certo evento ma anche quando se torniamo al testo vediamo che dopo aver accettato quindi dopo la controfirma l'azienda in accordo con lo studente definisce le date di inizio e di fine del tirocinio quindi un'informazione che io devo andare a rappresentare è sicuramente la data di inizio e la data di fine quindi aggiungerò inizio che è una data e fine che è una data anch'essa oltre a questo alla fine del tirocinio lo studente deve consegnare all'ufficio stage and job il foglio presenze quindi una cosa che devo andare ad aggiungere è il fatto che sia stato consegnato il foglio presenze quindi consegnato il foglio presenze e questo può essere un valore booleano come dicevo prima è opportuno comunque è raccomandabile avere anche un'informazione aggiuntiva che mi dice quale data in quale data è stato fatto questo evento in modo da avere un tracciamento molto più dettagliato inoltre il tutore aziendale e lo studente devono compilare ciascuno un specifico questionario di valutazione quindi altro flag questionario studente con un valore booleano e data questionario studente date questionario tutore è un valore booleano e data questionario tutore anch'esso è una data come quello di sopra tornando qui il docente deve poi assegnare un voto al tirocinio e quindi e poi il tirocinio viene registrato nella carriera accademica quindi qui avrò il voto che è un intero o meglio una stringa perché potrebbe esserci la load ad esempio non metto un valore booleano che mi dice se ho messo il voto perché sostanzialmente se si immagina di utilizzare una stringa la stringa vuota vuol dire che non c'è il voto il momento in cui la stringa contiene qualcosa vuol dire che il voto è stato assegnato ovviamente anche qui volendo posso aggiungere la data del voto allora tutte queste date non sono strettamente necessarie almeno facendo riferimento al al testo però diciamo che sono raccomandabili perché mi permettono di avere qualche informazione in più e infine registrato mi dice se è stato registrato nella carriera accademica e quindi sostanzialmente è stato concluso tutto il percorso legato al nostro tirocinio adesso provo a sistemare ok allargo ancora un attimo questo direi che a questo punto il nostro sistema è a posto prevengo una domanda creandovi sostanzialmente diciamo così un altro un altro diagramma con diciamo i controesempi allora qualcuno potrebbe chiedere ma se io avessi avendo il docente e il tirocinio con l'associazione tutore di il voto lo metto dentro il tirocinio oppure lo posso mettere anche come classe di associazione e quindi qui come attributo add voto string ragioniamoci un attimo questa associazione non l'ho indicato ma un tirocinio ha esattamente un tutore e un tutore e un docente può essere tutore di zero o più tirocini aggiungo anche la direzione di il voto dipende dal docente e dal tirocinio o soltanto dal tirocinio è una domanda analoga al problema che abbiamo visto anche nel caso dei voli se il voto dipende da entrambi e quindi è possibile che ci sia diversi voti per lo stesso tirocinio dati da docenti diversi allora è corretto utilizzare una classe associazione tuttavia il voto sebbene assegnato dal docente è un qualcosa di specifico del tirocinio anche perché di docente che assegna i voti ce n'è uno solo in generale tutte le volte che io ho un'associazione uno a molti come in questo caso non ha minimamente senso andare a mettere una classe d'associazione perché ovviamente questo valore non dipende dal docente ma dipende esclusivamente dal tirocinio più in generale quando ho una classe associazione di questo tipo gli attributi non dipendono dal lato 1 ma dipendono esclusivamente dal lato molti dimentichiamoci del fatto che il voto è assegnato dal docente ma una volta che io ho il tirocinio a me non interessa chi è il docente che l'ha assegnato so qual è il voto ok quindi è una questione di da che cosa dipende il tirocinio e da che cosa dipende il voto sapendo soltanto il tirocinio sono in grado di sapere il voto senza conoscere il docente sì quindi la classe d'associazione non è il modo corretto questo attributo deve andare dentro la classe tirocinio come abbiamo fatto nella nostra soluzione dove qui abbiamo il voto qua dentro e non abbiamo una classe d'associazione quindi utilizzare una classe d'associazione su una associazione 1 a molti normalmente è considerato un errore quindi questo deve andare messo sul lato molti ok perché il voto è un qualcosa che io posso andare a determinare sapendo soltanto il tirocinio non mi interessa sapere chi è il docente che l'ha dato a questo punto veniamo a vedere alcune possibili varianti ripartiamo dalla soluzione che abbiamo visto un attimo fa e cerchiamo di capire come possiamo cambiarla nel caso in cui volessimo andare a considerare alcuni aspetti in maniera diversa in particolare se noi andiamo a immaginare che il foglio presenze non sia un qualcosa di cartaceo consegnato fisicamente all'ufficio stage and job ma sia un qualcosa di compilato online ecco che è necessario andare a rappresentare i concetti di questo foglio presenze allora come andiamo a rappresentare il foglio presenze beh il foglio presenze sostanzialmente è un elenco di registrazioni che corrispondono ai diversi giorni in cui il tirocinante è stato presente presso l'azienda quindi quello che noi possiamo andare ad aggiungere è opzione 1 metto una classe foglio presenze a cui sono associate le singole registrazioni oppure seconda possibilità un po' più semplice vado a mettere semplicemente una classe registrazione che avrà come attributi diciamo una riga che mi dice descrizione dell'attività quindi cosa è stato fatto data e poi ragionevolmente i fogli presenze prevedono di avere una firma del tirocinante e una firma del tutore per semplicità direi poi essendo un problema laterale non entriamo troppo nel dettaglio per semplicità possiamo immaginare di avere due valori booleani che ci indicano semplicemente se il foglio presenza è stato firmato dal tirocinante e dal nostro tutore quindi firma tirocinante booleano e firma tutore anch'esso booleano possiamo ancora aggiungere ora inizio mi stavo scordando prima quindi devo sapere a che ora iniziato quindi un time e un'ora fine anch'esso time quindi non soltanto il giorno ma anche l'ora inizio di fine per sapere quante ore sono state fatte la registrazione a questo punto può essere collegata direttamente al nostro tirocinio quindi la registrazione è riferita a scusate riferita a andiamo anche ad aggiungere le informazioni che mi dicono che un tirocinio può avere zero o più registrazioni e una registrazione si riferisce a esattamente un tirocinio e la lettura va verso sinistra stiamo questa molteplicità quest'altra allora vediamo se riesco a modificare ok quindi modificata la molteplicità l'ho spostata semplicemente quindi la registrazione è recata al tirocinio quindi sostanzialmente qui la consegna del foglio presenze non è più da da gestire perché corrisponde ad avere completato tutte tutte le registrazioni un'alternativa se noi volessimo avere la registrazione di un evento formale di consegna allora manteniamo questa consegna foglio presenze che mi indica che sostanzialmente il tutore e il nostro tirocinante hanno verificato riverificato le informazioni del foglio presenze ovvero tutte le registrazioni e quindi lo considerano corretto e quindi quello può essere acquisito definitivamente altrimenti prima di questa operazione ragionevolmente è possibile andare a fare delle modifiche perché magari per rettificare qualcosa che possa essere considerato errato ok quindi questo è un modo di andare a rappresentare il foglio presenze elettronico invece che cartaceo cartaceo esclusivamente le informazioni sulla consegna in questo caso invece ho i dati relativi alle singole registrazioni che sono presenti nel foglio presenza un'altra un altro aspetto che non abbiamo modellato nel nostro sistema informativo è quello che riguarda la parte di gestione dei questionari quindi il tutor aziendale e lo studente devono compilare uno specifico questionario di valutazione come lo andiamo a rappresentare ecco in questo caso è evidente che il questionario di valutazione è un qualcosa di decisamente secondario non sappiamo cosa mettere dentro per carità possiamo avere l'esperienza dei questionari che abbiamo visto o che avete visto durante i vostri tirocini ma nel dettaglio è difficile andare a metterlo quindi è l'esempio tipico di cosa avviene in un caso reale in un caso reale a fronte di una frase di questo tipo voglio andare a capire come è fatto il questionario se può variare se è relativamente fisso se è lo stesso per i due se invece i due i questionari sono sostanzialmente diversi ecco tutti questi dettagli non sono presenti in questo testo quindi l'idea è quella di andare a mettere il questionario se lo vogliamo considerare come un qualcosa gestito dal sistema informativo all'interno del nostro modello informativo concettuale con giusto qualche accenno quindi alcuni dati elementari quindi quello che posso andare a mettere è una classe questionario per lo studente e una classe questionario invece per il tutore aziendale il tutore accademico non completa nessun questionario quindi opzione 1 considero i due questionari sostanzialmente due cose separate e indipendenti quindi ho un questionario studente e ho un questionario tutore il questionario studente è riferito a ok e il questionario tutore idem che cosa vado a mettere qua dentro onestamente non lo so possiamo mettere gli attributi che corrispondono a risposta domanda 1 risposta domanda 2 eccetera ovviamente diciamo che la cosa più più semplice è andare a dire non sono presenti informazioni o meglio non sono disponibili informazioni sufficienti per definire i dettagli di queste due classi allora ovviamente qui abbiamo assunto che il nostro questionario sia una cosa distinta per il tutore e per lo studente potrebbe essere identico non ha molto senso ma potrebbe essere lo stesso un'altra possibilità è di avere queste due classi come specializzazione di una classe più generale questionario sono tutte soluzioni alternative valide ok essendoci abbiamo visto nel testo una frase molto molto semplice senza ulteriori dettagli è chiaro che non ho molte informazioni altra possibilità questi questi attributi del compilazione e data dei questionari studente e tutore potrebbero andare a finire in queste classi invece di essere messa dentro la classe tirocinio vado a specificare velocemente le molteplicità quindi in questo caso la direzione di lettura è questa la molteplicità di inizio è sostanzialmente 0 1 e la molteplicità di fine è 1 0 1 perché inizialmente il questionario non c'è non è compilato mentre invece 1 perché ovviamente il questionario deve riferirsi esattamente a un tirocinio stessa cosa da questa parte in cui ho 1 0 1 per indicare che il questionario potrebbe non ancora esserci in un certo istante di tempo e invece 1 indicando che effettivamente un questionario deve per forza riferirsi a un tirocinio potrebbe venirvi in mente di andare a mettere un'associazione del tipo studente questionario compila compila in generale quando andiamo a definire un modello informativo concettuale noi non riportiamo all'interno del diagramma le azioni che vengono svolte dai vari ruoli quindi in questo caso lo studente oltre a essere un dato cioè un'entità i cui dati sono rappresentati nel nostro sistema informativo è anche uno dei possibili utenti quindi quando ho un utente che fa un'azione questa azione non deve essere inserita all'interno del nostro sistema informativo per cui non è auspicabile andare a mettere lo studente che compila il questionario perché per due diversi motivi uno perché non vado a rappresentare le azioni vado a rappresentare le informazioni le azioni sono rappresentate all'interno del modello di processo quindi fatto in BPMN secondo motivo è che se invece di legare il questionario studente al tirocinio lo legassi allo studente il risultato sarebbe che lo studente avrebbe un unico questionario magari per più tirocini che ha sostenuto quindi uno studente può sostenere più tirocini ad esempio uno nella triennale e uno nella magistrale e a questo punto come faccio a identificarli è ovvio che il questionario è un qualcosa di legato a un tirocinio quindi il fatto che venga compilato dallo studente quindi chi inserisce i dati è un'informazione che non ci interessa andare a mettere qua e tra l'altro è implicita nel senso che quando ho un questionario posso risalire in maniera univoca qui c'è un uno al tirocinio il tirocinio mi permette di risalire in maniera univoca al progetto formativo e quindi allo studente in realtà ecco avendo qui un molti a molti una cosa che invece potrei ragionevolmente andare ad aggiungere è un'associazione tra lo studente e il tirocinio quindi lo studente sostiene il tirocinio quindi un tirocinio ovviamente è sostenuto da esattamente uno studente quindi non può esserci un tirocinio senza uno studente e uno studente può sostenere possibilmente zero o più tirocini quindi sostanzialmente in questo modo dato un questionario studente risalgo allo studente e non mi serve andare a mettere un'associazione tra studente e questionario per andare a dire che l'ha compilato stessa cosa per il questionario tutore quindi dal questionario risalgo al tirocinio e dal tirocinio ho univocamente il dipendente che è tutore aziendale del tirocinio quindi questa sostanzialmente è la variante che possiamo andare a costruire se abbiamo la necessità di rappresentare sia i questionari che poi la parte di foglio presenze all'interno del sistema informativo mentre l'altra variante questa è quella che abbiamo fatto senza ipotizzando che queste due informazioni siano esterne quindi questionario e foglio presenze siano cartacee esterni quello che manca in questo diagramma è invece il legame che abbiamo già messo prima nell'altro diagramma tra lo studente quindi lo studente sostiene un tirocinio uno e qui c'è zero molti quindi uno studente può sostenere più tirocini un tirocinio è ovviamente sostenuto da un unico studente questo perché abbiamo detto che uno stesso progetto formativo può essere scelto da più studenti quindi a questo punto il tirocinio non è più univocamente collegato almeno attraverso il progetto formativo lo studente per cui è necessario andare a inserire questa associazione che mi permette di sapere chi è lo studente che sta sostenendo il tirocinio questo conclude sostanzialmente la soluzione di questo esercizio un'esercizio un'esercizio